Chakusa, Emile Zola, Messiere Presidente, permettetemi, grato per la benevola accoglienza che un giorno mi avete fatto, di preoccuparmi per la vostra giusta gloria e di dirvi che la vostra stella, se felice fino ad ora, è minacciata dalla più offensiva ed inqualificabile delle macchie. Avete conquistato i cuori, voi siete uscito sano e salvo da grosse calunnie. Apparite caraggiante nell'apoteosi di questa festa patriottica che l'alleanza russa ha rappresentato per la Francia e vi preparate a presiedere al trionfo solenne della nostra esposizione universale che coronerà il nostro grande secolo di lavoro, di libertà e di verità. Ma quale macchia di fango sul vostro nome? Stavo per dire sul vostro legno? Soltanto quell'abominevole affare tra i fi. Per ordine di un consiglio di guerra è stato scagionato esterasi, ignorando la verità e qualsiasi giustizia. È finita. La Francia sulla guanza è questa macchia. La storia scriverà che sotto la vostra presidenza è stato possibile commettere questo crimine sociale. E poiché è stato osato, oserò anche io. La verità la dirò io perché ho promesso di dirla, se la giustizia regolarmente osservata non la proclamasse interamente. Il mio dovere è di parlare. Non voglio essere complice. Le mie notti sarebbero abitate dallo spirito dell'uomo innocente che spialla giù, nella più spaventosa delle torture, un crimine che non ha commesso. Ed è a voi, signor Presidente, che io griderò questa verità con tutta la forza della mia rivolta di uomo onesto. In nome del vostro onore sono convinto che la ignoriate. E a chi dunque denuncerò, se non a voi, primo magistrato del paese. Per prima cosa, la verità sul processo e sulla condanna a dry fee. Un uomo cattivo ha condotto e fatto tutto. È il luogotenente colonnello del patì di clam, allora semplice comandante. La verità sulla fare dry fee la saprà soltanto quando un'inchiesta legale avrà chiarito i suoi atti e le sue responsabilità. Appare come il più fumoso, più complicato, più ricco di intrighe romantici, compiacendosi al modo dei romanzi foieton, carte sparite, lettere anonime, appuntamenti in luoghi deserti, donne misteriose che accaparrano prove durante gli appuntamenti. È lui che immaginò di dettare l'elenco a dry fee. È lui che sognò di studiarlo in una parte rivestita di ghiaccio. È lui che il comandante Forzinetti ci rappresenta armato di una lanterna, volendo farsi introdurre vicino l'accusato addormentato, per proiettare sul suo viso un brusco raggio di luce e sorprendere così il suo crimine nel momento del risveglio. Ed io non ho da dire altro che se si cerca si troverà. Dirò semplicemente che il comandante del patì di clam, incaricato di istruire la causa dry fee come ufficiale giudiziario, nel seguire l'ordine delle date e delle responsabilità, è il primo colpevole del terribile errore giudiziario che è stato commesso. L'elenco era già da tempo nelle mani del colonnello Sander, direttore dell'ufficio delle informazioni, morto dopo di paralisi generale. Ebbero luogo delle fughe. Carte sparivano come ne spariscono oggi e l'elenco era ricercato quando a priori si decise poco a poco che l'autore non poteva essere che un ufficiale di stato maggiore o un ufficiale dell'artiglieria. Doppio errore evidente che mostra con quale spirito superficiale si era studiato questo elenco. Perché un esame ragionato dimostra che non poteva agire soltanto un ufficiale di truppa. Si cercava dunque nella casa, si esaminavano gli iscritti come un affare di famiglia, un traditore da sorprendere negli uffici stessi per espellerlo. E senza che voglia rifare qui una storia conosciuta solo in parte, entra in scena il comandante del Pati di Clam quando il primo sospetto cade su Draifi. A partire da questo momento è lui che ha inventato il caso Draifi. L'affare è diventato il suo affare. Si fa forte nel confondere le tracce di condurlo all'inevitabile completamento. C'è il ministro della guerra, il generale Mercier, la cui intelligenza sembra mediocre. C'è il capo dello stato maggiore, il generale de Boadeffre, che sembra aver ceduto alla sua passione clericale, e il sotto capo dello stato maggiore, il generale Gons, la cui coscienza si è adattata a molti. Ma in fondo non c'è che il comandante di Pati di Clam che li conduce tutti, perché si occupa anche di spiritismo, di occultismo, conversa con gli spiriti. Non si potrebbero concepire le esperienze alle quali egli ha sottomesso l'infelice Draifi, le trappole nelle quali ha voluto farlo cadere, le indagini pazze, le enormi immaginazioni, tutta una torturante demenza. Questo primo affare è un incubo per chi lo conosce nei suoi veri dettagli. Il comandante del Pati di Clam arresta Draifi e lo mette nella segreta. Corre dalla signora Draifi, la terrorizza dicendole che se parla il marito è perduto. Durante questo tempo l'infelice si strappava la carne, gridava la sua innocenza. E la vicenda è stata progettata così come in una cronaca del XV secolo, in mezzo al mistero, con le complicazioni di selvaggi espedienti. Tutto ciò è basato su una sola prova superficiale, questo elenco sciocco, che era soltanto una tresca volgare, che era anche più impudente delle frodi, poiché i famosi segreti consegnati erano tutti senza valore. Se insisto, è perché il nodo è qui, da dove uscirà più tardi il vero crimine, il rifiuto spaventoso di giustizia di cui la Francia è malata. Ma questa lettera è lunga, signor Presidente, ed è tempo di concludere. Accuso il luogotenente colonnello de Pati di Clam di essere stato l'operaio diabolico dell'errore giudiziario, in coscienza, io lo voglio credere, e di aver in seguito difeso la sua opera nociva, da tre anni, con le macchinazioni più ragionevoli e più colpevoli. Accuso il generale Marsir di essersi reso complice, almeno per debolezza di spirito, di una delle più grandi iniquità del secolo. Accuso il generale Billot di aver avuto tra le mani le prove certe dell'innocenza di Dreyfus e di averle soffocate, essersi reso colpevole di questo crimine di lesa maestà e di lesa giustizia, per uno scopo politico e per salvare lo stato maggiore compromesso. Accuso il generale de Boadref e il generale Gons di essersi resi complici dello stesso crimine, uno certamente per passione clericale, l'altro forse con questo spirito di corpo che fa degli uffici della guerra l'arca santa, inattaccabile. Accuso il generale de Pelliot e il comandante Ravarie di aver fatto un'indagine scellerata, intendendo con ciò un'indagine della parzialità più enorme, di cui abbiamo, nella relazione del secondo, un imperituro monumento di ingenua audacia. Accuso i tre esperti in scrittura, i signori Belom, Varinar e Cuar, di aver presentato relazioni menzognare e fraudolente, a meno che un esame medico non li dichiari affetti da una malattia della vista e del giudizio. Accuso gli uffici della guerra di aver condotto nella stampa, particolarmente nell'Eclair e nell'Eco di Parigi, una campagna abominevole per smarrire l'opinione pubblica e coprire il loro difetto. Accuso infine il primo consiglio di guerra di aver violato il diritto, condannando un accusato su una parte rimasta segreta. Ed io accuso il secondo consiglio di guerra di aver coperto quest'illegalità per ordine, commettendo a sua volta il crimine giuridico di liberare consapevolmente un colpevole. Formulando queste accuse non ignoro che mi metto sotto il tiro degli articoli 30 e 31 della legge sulla stampa del 29 luglio 1881 che punisce le offese di diffamazione. Ed è volontariamente che mi espongo. Quanto alla gente che accuso non li conosco, non li ho mai visti, non ho contro di loro né rancore né odio. Sono per me solo entità, spiriti di malcostume sociale. E l'atto che io compio non è che un mezzo rivoluzionario per accelerare l'esplosione della verità e della giustizia. Ho soltanto una passione, quella della luce, in nome dell'umanità che ha tanto sofferto e che ha diritto alla felicità. La mia protesta infiammata non è che il grido della mia anima. Che si osi dunque portarmi in assise e che l'indagine abbia luogo al più presto. Aspetto. Vogliate gradire, signor Presidente, l'assicurazione del mio profondo rispetto. Grazie.